Ci vuole cuore a volte per superare le differenze. Ce ne vuole soprattutto quando si tratta di curare bambini nati con qualche difetto nel battito, tanto più per i bimbi nati dall'altra parte del mare, la Libia, ora di stretta attualità. E la storia di un'amicizia nata è subito finita, quella tra le marche e lo stato del traballante Gheddafi, o meglio, tra i medici marchigiani e i bambini libici, finita per volontà libica. Nei giorni dell'annuncio dell'arrivo in massa di profughi dal Nord Africa, ma ancora le prefetture marchigiane parlano di allarme zero, spunta una convenzione firmata dal governatore Spacca e dal titolare della Sanità di Bengasi, Mohamed Budabus, per far curare all'ancisi due bambini cardiopatici a settimana. Era il 12 gennaio 2009, data della firma. Ci avevano chiesto di poter operare quanti più bambini libici possibili, bambini con cardiopatie e con la possibilità poi anche di estendere il tipo di collaborazione su altri tipi di patologie. Però di fatto da allora c'è stato inviato un paziente che è stato operato, ci hanno mandato i fondi per operare un secondo paziente, ma la cosa si è interrotta. Ora dagli ospedali riuniti di Ancona arriva l'appello a riprendere in mano quell'accordo, visto che la struttura anconetana può offrire interpreti e sistemazione per le famiglie di bimbi stranieri un'opportunità concreta per i bambini cardiopatici in giorni convulsi. Sicuramente questi bambini sono conosciuti dalle autorità locali che ci avevano già mandato delle liste di pazienti e quindi il discorso è semplicemente quello di fattibilità, se ci fosse una disponibilità e una collaborazione fra le nostre autorità e quelle locali, di in qualche maniera dare una mano a queste famiglie con dei bambini in difficoltà, dal punto di vista nostro sicuramente ci sarebbe la massima disponibilità.